Un carico davvero particolare è quello sequestrato al porto di Ancona, ovvero 138 pitoni scoperti dalla Guardia di Finanza e dalla Dogana che viaggiavano in un automezzo sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia. Per il trasporto illegale dei serpenti, che rientrano in quelli delle specie protette dalla Convenzione di Washington, i possessori degli animali sono stati denunciati e ora rischiano un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro o l'arresto da sei mesi a un anno. Da quanto hanno potuto ricostruire le fiamme gialle, i rettili di vari colori e dimensioni erano destinati alla fiera Verona Riptiles e avrebbero fruttato alla vendita un guadagno di circa 35.000 euro. Durante i controlli, i possessori hanno esibito documenti in lingua greca relativi ad una presunta autorizzazione all'importazione, esportazione e commercio di flora e fauna protette, nonché certificati di origine dei rettili in bianco non validi per la legge italiana. Dunque è scattata la denuncia, mentre i pitoni sono stati affidati ad una struttura specializzata in Umbria.